Allora, a questa moto bisogna lavorare molto sulla elettronica e sulla parte ciclistica. L'elettronica è una centralina molto sofisticata e ha necessità di una messa a punto proprio raffinata. Le sospensioni invece bisogna cercare la miglior soluzione possibile, setting, per poter sfruttare al meglio la ciclistica di questa moto qua. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS